Bene signori, siamo pronti ad iniziare. Prima di iniziare in maniera formale vorrei fare dei complimenti e un applauso. Aspetta, tutti fanno complimenti e applausi, vediamo di capire a chi. I primi complimenti sono rivolti a voi, perché con questa bellissima giornata sicuramente avevate cose interessanti da fare, siete qui e pertanto permettetevi di farvi un applauso. Abbiamo rotto il ghiaccio, prima di presentarmi e di entrare nel vivo della manifestazione è necessario farvi capire perché siete qui o darvi una base e uno spunto. Innanzitutto questa iniziativa è il risultato dell'impegno, della lungimiranza e della imprenditorialità di un giovane 24enne, il fondatore di Canapuglia, che invito qui il signor Claudio Natile, che ha avuto questa iniziativa e inoltre appoggiato dall'Arti e dalla regione Puglia con il gruppo Bollenti Spiriti e invito anche qui il rappresentante Annibale Delia che vorrà sicuramente dire qualcosa. Prego signor Delia, prego. In mezzo ai giovanissimi. Beh, insomma, devo dire qualcosa? Se vuole, qui. Ok, allora, che bello, grazie dell'invito e benvenuti a questa manifestazione. Fa parte di quelle strane occasioni in cui sono le istituzioni che ringraziano delle persone giovani perché organizzano delle cose. Allora, dico due parole su, diciamo, il contenitore grande, perché questa cosa è un pezzo di una strana politica pubblica. Questa strana politica pubblica si chiama Bollenti Spiriti e l'idea fondamentalmente è che esattamente come Claudio sta facendo un lavoro incredibile in Puglia per diffondere una cultura che è quella della promozione, del ritorno alla coltivazione della canapa e lo sta facendo mischiando passione e imprenditorialità. Così sta succedendo per altri 600 casi. alcuni dei quali, guarda un po', sono anche qua presenti. Devo dire che da qualche anno che mi capita, dovunque io vada, di muovere lo sguardo, di incontrare almeno due o tre persone giovani che stanno promuovendo progetti sostenuti da Bollenti Spiriti e il disegno strategico che c'è dietro è molto semplice. Se vuoi cambiare c'è bisogno di dare spazio a delle persone nuove. Se tu pensi che il cambiamento siano quelli vecchi che dicono le cose nuove, quindi è evidente che sostenere con un mix di risorse economiche, poche, e incoraggiamento vero, autentico, non retorico, noi pensiamo che sia un bel modo per promuovere cambiamento. Inutile dire che quando poi dai spazio alle idee delle persone giovani escono temi come la sostenibilità, se non altro per il banale motivo che chi è giovane nel futuro deve passare gran parte della propria vita e di conseguenza non c'è bisogno di promuovere un bando per la sostenibilità. È naturale che dare spazio ai nuovi significa promuovere nuove visioni di modelli più sostenibili. Detto questo, la cosa che mi fa particolarmente piacere è che questo incontro fa parte delle azioni di Canapuglia che ha bellamente concluso la sua esperienza finanziata, questo vuol dire che si realizza quello che tutti noi vogliamo, cioè che delle risorse pubbliche vengano utilizzate come start, perché una delle code, diciamo, dei sinonimi di sostenibilità è anche capacità di proseguire le cose nel medio periodo, non soltanto finché ci sono dei soldi, anche perché sappiamo che i soldi hanno la caratteristica che tendono a finire. Un'esperienza del genere, cioè vedere una località mobilitata con i laboratori per bambini, le attività farmative, eccetera, significa che sono soldi ben investiti, perché non solo si vuole ma si riesce anche a continuare. Ultima cosa e poi mi taccio, questo specifico pezzettino di questa attività, solo questo momento qui, invece gode di un sostegno pubblico, ma di un sostegno molto molto particolare. Questo perché noi che stiamo facendo questo programma, come Regione Puglia, io lavoro per la Regione Puglia, insieme a dei miei colleghi che lavorano per l'Arti, che è l'Agenzia Regionale per la Tecnologia, tra cui Domenico che è lì in fondo, cerchiamo anche noi di portare un po' di innovazione nel modo di fare politiche pubbliche. L'innovazione che stiamo portando e che qui è rappresentata è la seguente. Siccome siamo tutti d'accordo che bisogna diventare più bravi, tutti, noi, i gruppi, in generale, cioè che il futuro richiede competenza e conoscenza, non c'è dubbio, non c'è dubbio che bisogna diventare più bravi. Beh, solitamente quando si dice che bisogna investire in conoscenza, il passo successivo è che si dice che ci sono dei corsi e bisogna frequentarli. Noi pensiamo che ci sono anche degli altri sistemi per diventare più bravi e che uno dei sistemi migliori per diventare più bravi è incontrare persone brave che fanno cose. E immaginare che quando tu vuoi imparare qualcosa, può darsi che invece di frequentare un corso, tu possa collaborare con altre persone che vogliono imparare la stessa cosa, individuare qualcuno che può insegnartela e noi dell'arte di bollenti spiriti facciamo una cosa semplice, ti compriamo i professori, riportando la conoscenza a un meccanismo molto antico e molto elementare di quando le università erano consorzi di studenti che si compravano i docenti e non sempre i meccanismi in cui sono i docenti che decidono cosa lo studente deve imparare. Questa inversione elementare noi pensiamo possa essere un meccanismo molto potente. Oggi stiamo imparando delle cose e quindi grazie a Claudio che ha invitato qualcuno che porterà la sua esperienza a beneficio di Claudio e della platea e mi verrebbe da dire di Conversano e forse anche della Puglia, se 600 esperienze fanno la stessa cosa si fa una gigantesca operazione di condivisione di agende e noi possiamo diventare una piattaforma, come regione, di persone giovani che chiamano altre persone a insegnargli le cose più fighe che ci sono al mondo. E noi pensiamo che questa cosa elementare, che tra l'altro aggiungo costa anche poco, perché questo spazio non viene finanziato con soldi pubblici, perché queste sedie non sono per tutto tranne che i costi vivi della partecipazione degli ospiti, se noi riusciamo a innescare questo meccanismo e ci immaginiamo tantissime persone che invitano tantissime altre, beh, io credo che un bel passo avanti in termini di conoscenza lo possiamo fare insieme. Quindi questa è la prima volta che si fa, sono abbastanza emozionato perché è un'idea nuova e quindi in bocca al lupo e viva Canapuglia. Grazie. Intanto parole bisogna dire, c'è un po' di politica, ma grazie a quello che vediamo ci sono anche i fatti. Anche per le istituzioni è una cosa bella. Poi, quindi, Claudio, vuoi dire qualcosa? Io prendo giusto un minuto per esprimere insomma tutta la soddisfazione che noi abbiamo avuto quando l'Arti e la Regione ha sposato e ha valorizzato la nostra proposta, ovvero quella di invitare Paolo che per noi e credo anche per voi quando lo sentirete rappresenterà una testimonianza per stimolare cambiamento qui in Puglia, dalla Puglia in tutta Italia. E quindi noi siamo felici e orgogliosi di aver organizzato questo incontro e di renderlo fruibile in tutta Italia. Grazie, quindi. Bene, volete conoscere? Prego. Bene, ora passiamo nel vivo. Prima di presentare l'ospite d'onore, anzi, un esempio. Io penso sia dovuto che mi presenti almeno come mi chiamo, il perché sono qui, un 30 secondi, e vorrei partire da due parole eccellenti, conoscenza e cambiamento. Conoscenza e cambiamento, perché chi conosce poi fa le stesse azioni che conosce a fare, detto in francese. Quindi, io sono il signor Cisci, Antonio Cisci, sono nato, sono di conversano, poi a 15 anni e mezzo ho preso scelte difficili per conoscere. Da fare il figlio di papà, sono entrato, mio padre mi ha raccomandato, e come schiavo sono entrati in marina militare. Mi ha raccomandato nei peggiori posti, cucine, bagni, eccetera, eccetera, affinché spaventassi e tornassi indietro. Invece ho accettato la sfida e sono andato avanti. Ora sono un umile presidente di Vismentis, un'associazione culturale con comitato scientifico, che si occupa di individuare menti, persone che possono contribuire ad identificare percorsi di prevenzione, disintossicazione per rafforzare il nostro organismo, per godere più a lungo della qualità della vita che il buon Dio ci ha dato. Detto questo, veniamo al clou, all'ospite, anzi, all'esempio. Questo esempio è il fondatore del progetto Equilibrium. Ora dirò due parole particolari. Sostenibilità strategica. Io mi occupavo di sicurezza NATO e quando c'era strategico già mi mettevo nel metto e correvo. Quindi sostenibilità strategica. Per farvi capire, la semplicità di questi contenuti e la testimonianza del suo esempio, del suo operato in linea con quanto ha detto il signor Delia, invito qui il signor Ronchetti Paolo. Prego, viene da lontano, viene da Lecco, quindi. Complimenti. Buonasera. È tutto tuo, ci vogliamo accomodare? Perché no? Io ho un po' di domande. Benissimo. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie prima di tutto a Canapuglia per avermi invitato e grazie anche all'Arti per avermi sostenuto. Sono stato introdotto come ideatore o comunque del progetto Equilibrium. Equilibrium di fatto è un progetto ma anche un'azienda, una start up. È un concetto molto attuale in questo periodo. È un qualcosa che nasce proprio attorno al concetto di sostenibilità strategica, come giustamente il nostro presentatore ha detto. Sostenibilità strategica. Sono due le parole. La parola sostenibilità è la parola strategica o strategia. Sostenibilità è una parola molto usata e forse anche abusata. È difficile oggi trovare persone che diano la stessa definizione alla parola sostenibilità. Io stesso, andando ad approfondire con un master il concetto di sviluppo sostenibile e sostenibilità, ho impiegato un po' di tempo a dargli concretezza. Ma diciamo che sono riuscito a capire o comunque a metterla in pratica. E l'ho fatto grazie al lavoro di un'organizzazione, di una no profit internazionale che si chiama The Natural Step, che nata da un oncologo o perlomeno dal lavoro, prima individuale, poi allargato di un oncologo, è riuscito a definire quelle che sono le condizioni di insostenibilità. Quindi ha fatto un esercizio che possiamo definire di pensiero laterale, quindi ha ragionato un po' al contrario, visto che definire quello che è sostenibile è difficile, proviamo a definire quello che è insostenibile. E quindi lui, insieme ad altre persone, hanno provato ad immaginare il sistema pianeta guardandolo dall'esterno. E si sono chiesti cosa bisogna fare per distruggerlo, cosa bisogna fare per far sì che non sia un qualcosa che esista nel futuro. E quindi si sono accorti o si è accorto che c'erano quattro condizioni per distruggerlo. Numero uno, visto che il sistema pianeta Terra è un sistema chiuso per quel che riguarda la materia, è aperto solo per quel che riguarda l'energia, ha detto, continuando ad estrarre sostanze, soprattutto scarse, dalla crosta terrestre, che rischio c'è? C'è il rischio che si estraggano anche sostanze a cui l'essere umano non è abituato a convivere, ad avere attorno, e quindi tossiche, quindi che lo vanno ad uccidere. Quindi pensiamo ai metalli pesanti, ad esempio, pensiamo anche agli idrocarburi, quindi sostanze aliene all'essere umano, o perlomeno ad elevate concentrazioni. Quindi numero uno, continuare ad estrarre sostanze scarse dalla crosta terrestre. Seconda condizione di insostenibilità, produrre sostanze non esistenti in natura, quindi lavorare con la chimica a livello molecolare e identificare o comunque dar vita a materiali come ad esempio la plastica, non presenti in natura, originariamente, e quindi difficili o forse impossibili da smaltire, da digerire. Quindi seconda condizione di insostenibilità, continuare a creare molecole che non esistono e lasciarle accumulare, quindi farle entrare in quella che è la catena alimentare, quindi dare luogo a problemi di salute per l'uomo. Terza condizione di insostenibilità, far sì che i servizi di ecosistema non funzionino come devono funzionare. Cosa vuol dire servizi di ecosistema? Vuol dire la capacità della natura di ripulire l'acqua, di ripulire l'aria, di ossigenare l'aria. quindi andare a far cosa? Andare a disboscare, andare a cementificare, andare a rovinare o comunque cambiare quello che naturalmente è lì e dà senso, ragione di essere lì. Quindi altro motivo, altra condizione di insostenibilità. Ultima e quarta condizione è non dare la possibilità alle persone di soddisfare i propri bisogni fondamentali, tra cui chiaramente c'è la sussistenza, c'è l'essere amati, c'è l'avere la libertà di decidere quello che si vuole fare, la libertà di decidere dove andare, eccetera, eccetera. E quindi una volta identificate queste quattro condizioni di insostenibilità, quindi continuando in modo sistematico a applicarle o a crearle, portando quindi alla distruzione di quello che è il sistema, non ha fatto altro che mettergli una negazione davanti. Quindi nel momento in cui io non faccio tutte queste quattro cose, ho la certezza, la tranquillità di procedere, di fare scelte nella giusta direzione, verso questo concetto ideale che è la sostenibilità, che è un punto di arrivo e che non si sa nemmeno se si arriverà mai un giorno, ma perlomeno è lì a darci, diciamo un po', ad avere la funzione della stella, della stella cometa da raggiungere. Quindi questi quattro principi diventano uno strumento per le persone, per le organizzazioni e nel nostro caso per le aziende, per mettere in campo, fare delle scelte oggi che non diventino un problema domani. Quindi entra in gioco a questo punto la strategia legata alla sostenibilità. Cos'è la strategia in questo senso? La strategia è, o perlomeno la potrei descrivere come tutte quelle scelte fatte nel tempo, giustificate o perlomeno motivate da una visione di lungo termine. Quindi la strategia, come la intendo in questo momento legata alla sostenibilità o legata al lavoro che stiamo facendo, è partire da una visione, da quello che gli inglesi chiamano vision, un futuro desiderato, quello che si vuole creare, quello che si desidera veramente. Chiaramente questa vision nasce o comunque ha dei limiti, che sono questi quattro condizioni di sostenibilità e quindi a cosa serve? Serve per immaginare un futuro ideale che può essere 20, 30, 40, 100 anni più avanti, non importa i termini temporali, ma che aiuta a creare una sorta di effetto attrazione, una sorta di effetto pull, quello che come gli inglesi lo chiamano, unito a un processo di pianificazione che anche qua è un po' particolare. Al posto che pianificare tradizionalmente, quindi guardare quello che è successo negli ultimi anni e ribaltarlo nel futuro, quindi visto che negli ultimi anni ci sono stati questi cambiamenti, queste grandezze, questa crescita tra virgolette di popolazione, questa crescita di consumi, eccetera, eccetera, se io pianifico in modo tradizionale, cosa faccio? Riporto tutti questi problemi nel futuro e quindi dopo è scontato che nel futuro ci debba essere tutto questo consumo di energia, tutta questa crescita di popolazione, tutto questo spreco e tutti questi problemi. La pianificazione a ritroso, quindi il backcasting, opposto di forecasting, che in inglese vuol dire pianificazione tradizionale, backcasting, pianificazione a ritroso, cosa prevede? Prevede del partire dalla vision, futuro desiderato, e dire cosa devo fare oggi per arrivare là. Quindi dà vita, dà luogo, dà la possibilità di definire delle azioni strategiche, perché mi permettono di arrivare dove voglio arrivare, che assicurano il successo, che assicurano l'esistenza dell'organizzazione nel futuro. Ora, una volta spiegati questi concetti molto teorici e forse un po' lontani dalla realtà, provo a farvi un esempio di come noi in Equilibrium, e quando dico noi intendo io e altre oramai dieci persone, in particolare una persona che ha permesso a Equilibrium di esistere, che è una mia socia Barbara. cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a fare un'analisi di quella che è la realtà di oggi nell'edilizia. Quali sono i problemi oggi nell'edilizia? Chiaramente noi ci occupiamo di bioedilizia, di edilizia naturale, e abbiamo sviluppato una serie di soluzioni a quelli che sono le esigenze del mercato di oggi. Abbiamo identificato due problemi prevalenti. Uno, la presenza di edifici energivori, che consumano molta energia, sia esistenti, quindi magari costruiti qualche anno fa, dove l'attenzione al risparmio energetico, all'efficienza energetica non c'era ancora, ma costruiti anche oggi, perché tuttora vengono costruiti edifici che consumano tanta energia, o peggio ancora, dove si utilizzano materiali per i quali è necessaria molta energia per produrli. Vi faccio un esempio, i prodotti sintetici, gli isolanti sintetici, polistirene, poliuretano, che hanno dei processi molto, molto energivoli, molto, molto costosi e lunghi, o anche laterizi, cottura di argilla per fare mattoni, quelli rossi. Altro problema dell'edilizia di oggi, dell'edilizia contemporanea, la cattiva gestione dell'umidità. Oggi, una volta, la tradizione ha sempre costruito con materiali disponibili nell'arco di pochi chilometri, nel raggio di pochi chilometri, ed essendo materiali naturali, automaticamente erano materiali traspiranti, quindi in grado di regolare l'umidità. L'umidità è un qualcosa che noi emettiamo, è un qualcosa con cui noi conviviamo, ed è un qualcosa che, se soffochiamo, crea problemi. Vi faccio l'esempio, o l'analogia della terza pelle. L'edificio viene anche definito come una terza pelle. La prima pelle è la pelle vera e propria che abbiamo, la seconda pelle è l'abbigliamento che utilizziamo, e tutti sappiamo che se l'abbigliamento non è traspirante, sudiamo, puzziamo. Stessa cosa è la casa. Quindi, se la casa, o le pareti della casa, i pavimenti, i tetti, non traspirano, tendono a soffocare l'umidità, e quindi noi respirando, cucinando, lavandoci, produciamo vapore acqueo, e questo vapore acqueo, non potendo uscire, condensa e diventa muffa, e quindi dà luogo a cattivo comfort, a malessere, a malattia nell'edificio. Quindi, una volta identificati questi due problemi, quindi avendo fatto un'analisi di quella che è la realtà attuale dell'edilizia, abbiamo provato ad immaginare, quindi prendiamo ancora il concetto di vision, un futuro, un futuro ideale, nel quale gli edifici sono costruiti senza emettere CO2 nell'atmosfera, quindi senza bisogno di sprecare energia per realizzare i materiali, senza bisogno di energia per gestirli, quindi d'estate per raffrescarli e d'inverno per riscaldarli, e soprattutto confortevoli. Edifici in cui quando io vado, mangio, lavoro, o dormo, sto bene e non mi ammalo. Partendo da questa visione, ci siamo detti, cosa fare oggi per arrivare là? Cosa abbiamo a disposizione oggi? E ci siamo guardati in giro. Abbiamo identificato in particolare un materiale, chiamiamolo innovativo, che poi innovativo del tutto non è. È un biocomposito, è una miscela che nasce dall'unione tra il legno di una pianta, la canapa, e qui ancora il collegamento con Canapuglia che sta promuovendo tutte le applicazioni della canapa. Noi in particolare abbiamo sposato, ci siamo focalizzati su quella che è l'edilizia, unito alla calce, altro legante minerale molto molto antico. Canapa e calce, biocomposito di canapa e calce, che noi abbiamo battezzato natural beton, giusto per farlo tra virgolette nostro. Cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che nel corso degli ultimi vent'anni in Francia c'è stato un movimento artigianale, pioneristico, che ha ripreso quelli che erano i sistemi costruttivi, i sistemi di isolamento e di costruzione antichi e ha iniziato a sperimentare con questi due materiali. Prima nel restauro, quindi di solito il restauro è il settore più delicato, dove non si può andare ad usare materiali troppo diversi da quelli originali, quindi devono essere materiali rispettosi. Dopo il restauro le ristrutturazioni, dopo le ristrutturazioni le nuove costruzioni. Quindi ci sono stati circa vent'anni di sviluppo, sempre pioneristico, sempre artigianale, di questi materiali. Quindi avendo preso atto di questo trend, di questa disponibilità, di questo know-how che stava sempre più prendendo piede, abbiamo detto, ok, iniziamo a fare ricerca e sviluppo, iniziamo ad approfondirlo. Quindi abbiamo speso, prima di iniziare con Equilibrium, che è nata a gennaio del 2011, abbiamo condotto un quattro anni di ricerca e sviluppo, di approfondimento, soprattutto per trovare il sistema di adattare questo materiale, questo sistema costruttivo all'edilizia in Italia. Siamo andati ad approfondire le sue proprietà, siamo andati a approfondire le sue performance, siamo andati a certificarlo, fino ad arrivare all'anno scorso in cui ci siamo resi conto che eravamo pronti per proporre queste soluzioni al mercato dell'edilizia. Soluzioni che vanno dalla, come ho detto, costruzione di edifici nuovi, muratura perimetrale, isolamenti dei tetti, isolamenti dei pavimenti, intonaci, alla chiaramente ristrutturazione degli edifici. E ci siamo accorti che questo era proprio quello che il mercato oggi sta chiedendo. Il mercato oggi chiede innovazione, chiede materiali naturali, chiede soluzioni che funzionino rispetto a quelle che ci sono oggi sul mercato. E quindi siamo riusciti nel giro di poco tempo, perché oramai è un anno e mezzo, poco più di un anno e mezzo che lavoriamo, a far sì che quest'idea, questo progetto fosse conosciuto in tutta Italia. abbiamo avuto un grande riscontro da parte dei media, delle televisioni, dei giornali, ma anche delle persone nel settore dell'edilizia, quindi architetti, imprese, che ci stanno sempre di più aiutando a promuovere la cosa, l'hanno introdotta nei loro lavori, nei loro progetti e sempre di più questa cosa funziona. Chiaramente noi abbiamo investito molto perché questo avvenisse, curiamo in particolare quella che è la formazione, perché giustamente come abbiamo detto prima, conoscenza e informazione sono alla base di tutto. Facciamo ogni mese un corso di due giorni per installatori, per tecnici, per imprese, ma anche per le persone, per i privati che vogliono approfondire questi concetti. Abbiamo iniziato a farli anche in giro per l'Italia, a luglio siamo venuti a Conversano, abbiamo fatto due giorni qua a Conversano, sono venute 15 persone, abbiamo avuto un buonissimo riscontro. Il primo cantiere a Conversano inizierà dopo domani, quindi è arrivato già del materiale e verrà ristrutturato un edificio con la calce e la canapa e quindi ci auguriamo che anche nel sud Italia questa idea, questo modo, questo approccio strategico all'edilizia possa andare avanti. Volevo prima di concludere dare un'idea di quelle che sono, perché tre caratteristiche del modello Equilibrium, a me piace, ci piace parlare del modello Equilibrium proprio perché non è solo un'azienda che fa bioedilizia, il fare bioedilizia con un materiale naturale viene per ultimo. Il modello è quelle che sono quelle che sono le basi, i principi, chiamiamoli anche teorici ma fondanti di quella che è la nostra organizzazione e che sono tre semplici principi. Uno è un'attività for benefit. For benefit cosa vuol dire? Vuol dire che non è un'attività for profit, puramente for profit e non è nemmeno un'attività no profit, quindi non vuole essere un estremo, vuole stare in mezzo perché ci siamo accorti che bisogna creare valore, non solo dal punto di vista economico e finanziario ma anche valore dal punto di vista ambientale e valore dal punto di vista sociale. Un'azienda oggi funziona solo se crea valore da questi tre punti di vista e soprattutto in ugual parte. creare valore ambientale per noi vuol dire utilizzare materiali naturali, lavorare sul concetto di filiera corta, quindi evitare di andare a portare, trasportare i materiali da troppo lontano ma così come facevano i nostri nonni, reperire materiali, materie prime localmente, calce e canapa che sono chiaramente una pianta che cresce in tutta Italia e calce, pietra calcarea cotta e lavorata, disponibile anche questa in tutta Italia. Quindi concetto di azienda for benefit, concetto di azienda organizzazione a prova di futuro, a prova di futuro mi leggo a quello che dicevo prima, la strategia, l'approccio strategico, quindi fare delle scelte oggi che non diventeranno un problema domani e che non ci metteranno nella condizione di essere in un vicolo cieco. L'ultima caratteristica, che è forse anche questa una delle più importanti, un approccio totalmente open source. Open source è un concetto che viene dal mercato, comunque dal settore delle tecnologie informatiche. E cosa significa? Significa che non crediamo nella brevettazione della nostra ricerca, della nostra innovazione, non crediamo nella difesa con dei brevetti o soprattutto con delle cause legali di chi inizia a fare le stesse cose che facciamo noi. Anzi, invitiamo chiunque, dal privato all'azienda, al professionista, al potenziale competitor, ad essere coinvolto in quello che stiamo facendo. Perché? Perché ci siamo accorti che coinvolgendo le persone che ci stanno attorno e le persone, ripeto, intendo tutti i portatori di interessi che ci stanno attorno e facendole partecipare a quello che è il nostro processo di evoluzione, non fa altro che aumentare il valore che stiamo cercando di creare, ma soprattutto ne aumenta l'impatto, l'impatto su larga scala, ed è quello di cui oggi abbiamo bisogno. Quindi ancora l'aspetto di apertura totale è quello che ci contraddistingue, quindi al posto che come farebbe l'azienda tradizionale o comunque un modello vecchio di chiudere e nascondere l'80% del proprio know-how, quindi tenerlo in privato e distribuire o comunque comunicare verso l'esterno solo un 20%, noi qui cerchiamo di ribaltare ancora il modello. diffondiamo quello che è l'80% del nostro know-how e teniamo nascosto solo un 20%. Chiaramente anche qua ci vuole e cerchiamo di difendere o comunque tenere quelli che sono i nostri piccoli segreti che sono fondamentalmente il frutto della ricerca e sviluppo attuale. Quindi se troviamo, quello che stiamo facendo, sviluppiamo sempre di più quello che è il legante a base di calce, quindi troviamo degli additivi naturali come della pozzolana, della pietra pomice in particolari condizioni che migliorano quello che è il funzionamento del legante o comunque del biocomposito, certo non andiamo a dire subito a tutti che l'abbiamo fatto. Vogliamo tenere sempre un minimo di vantaggio competitivo rispetto a quelli che ci stanno dietro. Comunque diffondendo e coinvolgendo chi ci segue. Intanto, al di là di complimenti, bravo, sono sicurissimo che condividete la sensazione che ha parlato con il cuore, ha parlato di una sua esperienza, di un suo sudore e di tanto tempo dedicato a questo progetto. Mi sbaglio? Assolutamente. Quindi si merita l'applauso per questo. Poi, oltre a questo, ed è stato anche breve, 25 minuti, un record. Quindi, ho letto negli occhi di molti, c'è qualche domanda. Io appena sono entrato a Canapuglia ho visto quel mattone. E la prima cosa che ho detto è stata, Claudio, ma posso costruire una casa, una capanna, una casetta con questo mattone, la seconda è una domanda semplice che a nessuno è venuta. Ma quanto costa? I costi, anche perché, hai citato, mercato edilizio e, per ultimo, va bene, mi viene dopo. Quindi, iniziamo. Qualcuno vuole aggiungere qualche domanda? Intanto partiamo. Si può costruire una casa con questi mattoni? Credo che interessi a tutto, vero? Tutti quanti vogliono, se vedi, condividono. Quindi, Paolo, mi posso? Quanti mattoni mi servono per costruire una casa? E se è possibile. Prego. Chiaramente si tratta di un mattone per costruire case. Quindi, sì, si può costruire una casa, anzi, si deve costruire una casa con questo mattone. Però la domanda è lecita. Perché oggi, quando si pensa a un mattone, si vede un mattone, si dice, ok, ma fino a quanti piani posso costruire? Che pesi mi tiene? Qual è la capacità strutturale di questo materiale? E qui la risposta è semplice. Questo è un materiale che ha una funzione prevalentemente isolante. Quindi non è il materiale strutturale, non è il materiale di calcestruzzo che posso utilizzare fino a quanti piani voglio. È un materiale che si definisce di tamponamento nelle nuove costruzioni. Vuol dire che si abbina sempre a una struttura, a un telaio che assolve la valenza strutturale. Quindi il telaio, lo scheletro della casa, può essere realizzato in calcestruzzo, in ferro, in acciaio o anche in legno. L'ideale sarebbe realizzarlo in legno per mantenere la naturalità del materiale. Anche se questo è un materiale molto flessibile che si può abbinare a qualsiasi tipo di costruzione. Detto questo, il motivo per cui questi mattoni sono prevalentemente isolanti è perché devono assolvere la funzione, l'esigenza, come dicevo prima, la domanda di risparmio energetico. Possono essere portanti, quindi possiamo tranquillamente realizzarli portanti, aumentando la quantità di calce. Quindi se aumenta il rapporto di calce, questi mattoni diventano più duri, più resistenti alla compressione, ma meno isolanti. Che non è un problema, soprattutto dove l'esigenza dell'isolamento termico non è per questioni climatiche così forti come nel nord Italia o nel nord Europa. Quindi in un clima come quello del sud Italia, si può tranquillamente, anche se non lo stiamo ancora facendo, ma è tra quelli che sono i progetti di sviluppo, si può realizzare lo stesso tipo di manufatto ma con valenza strutturale. La seconda domanda riguarda il prezzo. Anche questa è una domanda lecita e con piacere posso dire che finalmente qui si parla di bioedilizia, di edilizia naturale, che costa tanto quanto l'edilizia convenzionale. A volte costa anche di meno, in certe situazioni, in un certo tipo di utilizzo, perché quello che vedete voi qui è un mattone, noi non facciamo solo mattoni, come ho detto sviluppiamo, abbiamo sviluppato una serie di soluzioni per l'edilizia e per la costruzione. Ci sono soluzioni che prevedono l'uso di pannelli ai quali viene applicato questo materiale con una pompa, a modi spray, e che quindi permettono di abbassare ulteriormente quelli che sono i costi di posa in opera, che nell'edilizia sono la componente principale del costo finale, e quindi di rendere il lavoro più produttivo e quindi di avere anche dei vantaggi di costi e quindi di prezzo finale per il cliente nella costruzione. Un termine che mi è passato, energivoro, mi sono preoccupato, quindi poi ha anche detto cattura CO2, volevo saperlo anche voi o solo io? Anche gli altri, quindi prego. Allora, energivoro è un neologismo, energivoro suona come che mangia energia. Un edificio energivoro chiaramente vuole immaginare un edificio male isolato o magari non isolato del tutto e che quindi ha bisogno di un continuo apporto di energia per creare un ambiente confortevole. Quindi energivoro si può definire sia un edificio ma anche un materiale. Immaginiamo un edificio d'estate, d'inverno, d'estate, soprattutto in climi come questo, ma anche in climi come il Nord Italia, negli ultimi anni sta spopolando l'impianto di condizionamento, quindi anche dei blackout causati proprio dall'aumento dei consumi energetici per raffrescare l'edificio. Stessa cosa d'inverno, quindi edifici che perdono energia, che quindi soprattutto dal tetto o dalla parete a Nord che non prende mai il sole resta sempre umida, e da qui proprio il concetto dell'edificio che mangia l'energia. Come dicevo, è anche riferito ai materiali, perché i materiali energivori sono i materiali che necessitano elevate quantità di energia lungo il loro ciclo di vita, quindi dall'estrazione delle materie prime alla trasformazione di quelle che sono le materie prime, alla gestione di questi materiali, ma soprattutto allo smaltimento. pensate ai materiali sintetici, agli isolanti sintetici, nella maggior parte derivati dai combustibili fossili, quindi vengono estratti dalla crosta terrestre, quindi attraversano un processo di distillazione, di trasformazione, di cottura, di colorazione, di trasporto. Spesso e volentieri il trasporto è una componente che va a aumentare molto quello che è l'apporto di CO2, l'apporto di energia o consumo di energia e quindi le emissioni di CO2 nell'atmosfera. E quindi oggi cosa si fa per valutare, per calcolare, per dare un numero, un valore a queste grandezze? Si fa uno studio che si chiama LCA, che in inglese sta per Life Cycle Analysis, studio del ciclo di vita del prodotto. Quindi si va a misurare, quantificare tutti quelli che sono gli impatti in termini ambientali, e quindi anche di consumo energetico e di emissioni di CO2, di un prodotto dalla sua estrazione al suo smaltimento. La buona notizia è che il natural beton e il biomattone, e quindi tutto quello che noi realizziamo con calce e canapa, ha un bassissimo livello di energia incorporata. Quindi serve veramente poca energia per produrlo, perché è un materiale che viene miscelato a freddo, un materiale che non viene cotto, un materiale che essica, quindi l'essicazione viene all'aria. Abbiamo chiaramente condotto questo tipo di studi, li abbiamo fatti condurre da terze parti, in particolare dal Politecnico di Milano, perché queste cose è meglio lasciarle dire a terzi, perché saremmo di parte se le provassimo, le dimostrassimo noi, anche se già sappiamo quelli che sono i risultati. E quindi abbiamo la dimostrazione, la certificazione di un'università che questi materiali, rispetto a quelli che sono i materiali convenzionali, hanno delle caratteristiche ambientali molto interessanti. Verrà pubblicata proprio nei prossimi giorni una tesi di due ragazzi del Politecnico di Milano, una tesi specialistica, che va proprio a misurare quelli che sono le emissioni di CO2, e qui viene la cosa interessante, che derivano dalla produzione di questi materiali con le nostre materie prime, con i nostri impianti e con i nostri trasporti, quindi ci hanno fatto una sorta di studio personalizzato, che a loro giustamente è servito come esercizio, come aggiornamento, a noi chiaramente serve come rinforzo di quello che andiamo a comunicare verso l'esterno. Chiuderei con proprio l'ultima domanda che mi avete fatto. Cosa vuol dire che il natural beta, il biomattone, cattura CO2? Facendo questo tipo di studi, di life cycle analysis, qual è stato il risultato? Il risultato è stata una sorpresa. È maggiore la quantità di anidride carbonica, di CO2, di ossido di carbonio, che viene catturata, sequestrata dall'atmosfera e catturata all'interno di questi materiali, rispetto a quella che viene emessa nell'atmosfera. Quindi questi sono prodotti che gli inglesi definirebbero carbon negative, ad emissioni negative di CO2. Quindi al posto che emettere CO2 nell'atmosfera e quindi contribuire a quelli che sono i cambiamenti climatici, di fatto contribuiscono a combattere il cambiamento climatico, perché un edificio isolato, esistente o costruito ex novo con questi materiali, diventa ancora, lasciatemi la parola inglese, un carbon sink, una forma di sequestro, di prendere la CO2 dall'atmosfera e tenerla sequestrata e tenerla lì. Chiaramente fino a quando? Fino a che questo edificio esiste, fino a che questo materiale non viene rimesso in natura. Però, visto che la vita media degli edifici, ma soprattutto degli edifici costruiti con questi materiali, è pluricentenaria, abbiamo tutta la tranquillità, ma soprattutto abbiamo il vantaggio di avere una soluzione che oggi sul mercato dell'edilizia non esiste. Oggi il concetto di avere materiali ad emissioni di CO2 negative è nuovo, perché chiaramente fino adesso nessuno ci prestava attenzione, ma il trend e quindi quello a cui andiamo incontro nei prossimi anni è una continua, non promozione, ma perlomeno verrà premiata o verranno premiati coloro che saranno in grado di togliere CO2 dall'atmosfera o perlomeno evitare che vengano immesse. Quindi gli edifici realizzati con questi materiali avranno diritto a certificati verdi e potranno vendere i certificati a quelle aziende meno virtuose o quelle attività meno virtuose che invece la CO2 continueranno ad emetterla. Quindi ulteriore aspetto interessante e virtuoso dal punto di vista ambientale di queste soluzioni. Allora, siamo arrivati alla fine. Per concludere, per fare il punto della situazione, possiamo dire che anche questa realtà scaturita dal tuo ingegno, dalla tua dedizione, è una conoscenza che migliora la qualità della vita. Possiamo dirlo? Bene. E su questo possiamo fare un applauso. Bene, era spontaneo, ho visto che non era provocato, ma signori abbiamo finito, è stato piacevole. Ora ci trasferiamo nell'anfiteatro. Lì, nel momento che meno ve l'aspettate, ci sarà un test su un'altra conoscenza che migliora la qualità della vita parlando principalmente di salus. Ci saranno citazioni latine. Anzi, siccome conoscenza e cambiamento sono l'evoluzione dei tempi, vorrei chiudere con una frase, ahimè, non mia. Un certo Albertino, che tutti conoscete, tutti conoscete, voi non lo sapete ma ve lo presenterò. Albertino dice, ha detto, ahimè non c'è più, è pura pazzia, sperare di avere risultati migliori facendo le stesse azioni. E' chiaro il concetto? Quindi conoscenza e cambiamento. Questo Albertino, che tutti conoscete, Albert Einstein. Signori, grazie per l'attenzione.